Cessate il fuoco e negoziati, è questa la posizione dell'Italia sul conflitto ucraino espressa dal Premier Mario Draghi che questa mattina ha riferito in Parlamento. Draghi ha poi annunciato che l'Italia è pronta a rafforzare il contributo alla Nato inviando altre mille unità sui confini di Ungheria e Bulgaria. Il Presidente del Consiglio ha inoltre affrontato i temi dell'energia e della crisi alimentare lanciando un SOS, possibili effetti disastrosi in Africa e Medio Oriente. E sul fronte diplomatico il Cremlino si dice pronto a riprendere i negoziati con l'Ucraina quando anche Kiev si dichiarerà pronta. Lo ha riferito il Vice Ministro degli Esteri, Rudenko, all'Agenzia Interfax. Irritazione di Kiev per le parole pronunciate dal cancelliere tedesco Scholz al Bundestag. La procedura di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea deve essere standard, non può essere accelerata, sarebbe ingiusto nei confronti dei Balcani occidentali. Sono 1730 i soldati che, fa sapere Mosca, sono già usciti dalle acciaierie Azov stanno arrendendosi ai russi, ma altri, tra cui anche il leader del battaglione Azov, sono ancora serragliati all'interno dell'impianto. Usciranno solo deponendo le armi, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Nell'85esimo giorno di combattimenti si intensifica l'offensiva sul Donbass. Kiev condiziona il cessate il fuoco al ritiro delle truppe russe. A Berlino il G7 dei Ministri della Salute. Tra i temi in discussione un confronto sulle misure anti-Covid adottate dai vari paesi su come rendere più efficienti i sistemi sanitari. Presente il Ministro Speranza, che sulla pandemia dice servono ancora cautela e unità. Dobbiamo sostenere i paesi più fragili, perché se ne può uscire solamente tutti insieme. Congelati beni per circa 150 milioni di euro, tra i quali 5 aerei, alla Superjet International S.p.A., una joint venture tra Leonardo e la russa Sukhoi, con sede a Venezia. La società è controllata da una holding russa inserita nella lista nera dell'Unione Europea. I sindacati lanciano l'allarme già in crisi per la guerra. Adesso rischiamo i posti di lavoro. Serve un confronto istituzionale. Tragedia a 50 miglia a largo della costa barese. Un rimorchiatore italiano diretto in Albania è affondato per cause ancora sconosciute. 5, le persone morte. È stato tratto in salvo il comandante da un'imbarcazione croata. Altre 11 persone sono su un pontone galleggiante alla deriva in attesa di essere tratte in salvo. Buongiorno dal telegiornale della Sette. Serve che ci sia il cessate e il fuoco, che riparta subito la trattativa. Questa è la posizione italiana, questo è il cuore del discorso fatto dal premier Mario Draghi nella sua informativa in Parlamento, nella quale ha sottolineato come la guerra stia anche innescando una grave crisi alimentare e ha precisato che comunque la pace sarà una pace che solamente l'Ucraina deve scegliere ed accettare. Dobbiamo raggiungere al più presto un cessate il fuoco e far ripartire con forza i negoziati. La posizione italiana rimane ancorata nel campo transatlantico e dell'Unione Europea. Il governo resta nel solgo della risoluzione di marzo. Lo ripete il presidente del Consiglio Mario Draghi nell'informativa alle Camere sulla guerra giunta a 85 giorni sulla sua missione a Washington e cerca di tirare le fila della maggioranza sfilacciata sull'invio di armi all'Ucraina e non solo all'indomani dello strappo dell'elezione di Stefania Craxi con i voti del centrodestra, a presidente della Commissione Esteri del Senato che ha fatto gridare i 5 stelle alla fine della maggioranza. Siamo in prima linea con credibilità e senza ambiguità nella ricerca della pace, dice Draghi. Se oggi possiamo parlare di un tentativo di dialogo è grazie al fatto che l'Ucraina è riuscita a difendersi in questi mesi di guerra. L'Italia continuerà a sostenere il governo ucraino nei suoi sforzi per respingere l'invasione russa. Il governo ha riferito più volte sul tema al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che ha sempre riscontrato la coerenza del sostegno offerto rispetto alle indicazioni e agli indirizzi del Parlamento. Anche dopo l'espulsione dei diplomatici italiani rimangono aperti i canali di dialogo con la Russia, ma, lo ribadisce il Premier, dovrà essere l'Ucraina a decidere che pace accettare. Il Premier annuncia un vertice bilaterale a luglio con la Turchia al primo da dieci anni e sulla stessa linea di Mattarella propone una conferenza di pace come quella di Helsinki, che alla fine del confronto armato dia stabilità a un nuovo assetto del mondo. La crisi umanitaria dei profughi alimentari, economica ed energetica, i temi dell'impegno del governo toccati da Draghi, le sanzioni da incrementare sia l'Ucraina in Europa, Finlandia e Svezia nella Nato, rafforzata sul versante orientale anche con i soldati italiani. Il Premier ringrazia il Parlamento e anche l'opposizione di Fratelli d'Italia per l'appoggio. Il dibattito rileva le differenze non solo nelle dichiarazioni anti-americane di alcuni oppositori. C'è un cambio di epoca, no slogan senza senso, dice Renzi, la politica estera non può essere oggetto di una rissa permanente. La destra sempre con l'Occidente, la difesa è sempre legittima, l'Italia non si è al ventre molle mettendo in discussione l'aiuto anche militare all'Ucraina, incalza la russa di Fratelli d'Italia. Fede atlantica ribadita dall'Azzurro Cangini al di là dei discussi distingo di Berlusconi contro Biden. Schierato sullo stesso fronte il PD con l'ETA che dice bene Draghi e bene il Parlamento di oggi. È un ottimo segnale di unità del Paese perché in questo momento che Putin capisce soltanto la legge della forza e dell'unità, noi oggi dall'Italia diamo un messaggio di forte unità, questo mi sembra importante. Ma la Lega di Salvini ha toni diversi. Pace significa lavoro perché quando qualcuno anche in quest'Aula rinnova l'invito a inviare altre armi e al massimo gli operai italiani tireranno la cinghia, io non ci sto. Salvini chiede a Draghi di essere lui a mediare per lo sblocco delle navi del grano del porto di Odessa, di proporre a Mosca di candidare la stessa Odessa per l'Expo 2030 e di chiedere insieme a Germania e Vaticano una tregua delle armi di 48 ore per sedersi attorno a un tavolo. In urinato asse giallo-verde tuonano contro l'escalation delle armi anche i 5 Stelle, polemici con le scorrettezze della maggioranza, vedi il caso Craxi, e chiedono al Premier più coraggio di tornare in Aula per un voto entro il mese. Presidente Drago, io lo dico con schiettezza, com'è abitudine e consuetudine fare, che il passaggio parlamentare non mira a indebolire il Governo, ma ne vuole rafforzare e consolidare la linea politica e di indirizzo come si conviene in una democrazia parlamentare. Ecco dunque, a proposito della ripresa dei negoziati, oggi Mosca si è detta pronta a farlo, non appena anche Kiev sarà pronta alla ripresa dei colloqui. Tutto questo in un quadro diplomatico che registra anche la tensione tra Kiev e Berlino e con quei paesi dell'Unione Europea che complessivamente si dicono contrari ad una procedura accelerata per l'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea. E poi c'è il nodo dell'ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO, rappresentato da Erdogan, che poco fa ha ribadito la sua contrarietà considerando questi due paesi come nido di terroristi. Il processo negoziale non è stato interrotto dalla Russia, è stato messo in pausa dai nostri partner ucraini. Non appena esprimeranno la loro volontà di tornare al tavolo dei negoziati risponderemo positivamente, afferma il viceministro degli esteri Andrei Rudenko, citato dall'agenzia di stampa russa Interfax. Kiev per il momento tace e punta tutto sulla rapida entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea. Ma il ministro degli esteri Dmitry Kuleba lamenta il trattamento di seconda classe che l'ex Repubblica Sovietica starebbe subendo da alcuni dei 27 Stati membri. Uno su tutti la Germania, il cui cancelliere Olaf Scholz, parlando al Parlamento tedesco, si dice contrario a una procedura di adesione accelerata per Kiev. Che non ci sia alcuna scocciatoia per l'Ucraina è anche una questione di lealtà nei confronti dei sei paesi dei Balcani occidentali, spiega Scholz, dando così ragione al presidente francese Macron, che aveva a sua volta sottolineato come l'adesione non sarà questione di qualche mese o di qualche anno. L'ambiguità strategica sulla prospettiva europea dell'Ucraina praticata da alcune capitali dell'Unione Europea negli anni scorsi è fallita e deve finire, scrive oggi Kuleba su Twitter, affermando che questa non avrebbe fatto che imbaldanzire Putin ferendo i sentimenti degli ucraini. Quanto alla pace, per Scholz, Putin crede ancora di poterne dettare i termini a colpi di bombe, ma, a sicura, non accetteremo una pace imposta né lo farà l'Ucraina. Sebbene il premier italiano Draghi concordi sul fatto che la pace ucraina dovrà basarsi su ciò che stabiliranno gli ucraini, ieri il ministro degli esteri Di Maio ha consegnato al segretario generale delle Nazioni Unite Gutierrez un piano per la pace in quattro tappe. Elaborato dalla Farnesina in stretta collaborazione con Palazzo Chigi, sotto la supervisione di un gruppo internazionale di facilitazione, il documento ora sul tavolo dell'ONU prevede un cessate il fuoco immediato, la neutralità dell'Ucraina, le questioni territoriali relative a Crimea e Donbass e un nuovo patto di sicurezza europea e internazionale. Nel bilaterale di ieri a New York il ministro degli esteri turco Chavuzoglu ha espresso al segretario di Stato americano Blinken le legittime preoccupazioni di sicurezza di Ankara sul fatto che Svezia e Finlandia sostengono organizzazioni terroristiche, in particolare i kurdi del PKK, considerati tali da Turchia, Stati Uniti e Unione Europea. I due hanno ribadito il loro sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina contro l'inaccettabile guerra della Russia, riferisce una nota del Dipartimento di Stato americano riaffermando l'impegno di Washington ed Ankara a trovare una soluzione per porre fine alla guerra. Anche il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan nel briefing alla Casa Bianca si dice fiducioso che le preoccupazioni della Turchia sull'adesione della Svezia e della Finlandia alla NATO verranno affrontate e superate. Joe Biden riceve oggi il presidente di Helsinki, Sauli Ninisto, con la premier di Soccolma Magdalena Anderson e sull'ingresso dei due paesi nella NATO si dice fiducioso, andrà tutto bene. Mentre la bandiera a stelle strisce torna a sventolare sull'ambasciata a Kiev però, dopo le espulsioni di ieri di 24 diplomatici italiani, 27 spagnoli e 34 francesi, oggi Mosca ne allontana altri cinque portoghesi. Andiamo a quella che è la situazione sul campo per quanto riguarda Mariupol, la cereieria Azovstal. Secondo Mosca sono 1730 i soldati ucraini che da lunedì scorso si sono arresi. Mosca che peraltro oggi ha dato l'annuncio di aver messo in orbita un nuovo satellite militare. Ma campo vuol dire soprattutto la battaglia nel sud-est del paese con l'avanzata russa che prosegue ma lenta per loro stessa ammissione. Lenta nel senso che non ci sono dati o conquiste significative da poter dare una svolta a questo conflitto. L'offensiva russa continua e intensa nel sud-est dell'Ucraina ma è lenta e non starebbe ottenendo successi significativi. I teatri delle ultime ore di guerra sono infatti gli stessi da giorni. La regione di Dnipro-Petrovsk con attacchi ripetuti nell'area di Velika-Kostromka. Anche in queste ore dentro e fuori il Donbass le truppe di Mosca starebbero usando armi non sempre convenzionali come le bombe al fosforo. Dell'arsenale russo impiegato in questa guerra parla di notte Volodymyr Zelensky con riferimento anche alla cosiddetta Wunderwaffe, l'arma meravigliosa di hitleriana memoria di cui parlava prima dell'invasione e lo stesso Vladimir Putin, un'arma che avrebbe lasciato senza parole il mondo e che gli ucraini identificano in un dispositivo bellico al laser capace di colpire anche satelliti distanti 1500 chilometri dalla terra che sarebbe già stato utilizzato inoltre per colpire i cosiddetti droni kamikaze in dotazione alle forze di Kiev. Vuol dire, secondo le parole di Zelensky, che i russi devono risparmiare sui missili dopo averne sparati sull'Ucraina oltre 2500 in poco meno di tre mesi di conflitto. In ogni caso, aggiunge il Presidente, un altro segno del fallimento militare di Mosca. Sul campo, nell'area di Donetsk, secondo l'intelligence britannica, i russi vorrebbero arruolare gli studenti delle superiori ancora nella regione per carenza di truppe e guardando a oltre confine un attacco ucraino verso il territorio russo di Kursk ha provocato la morte di una persona ed imprecisati feriti. Attacco a cui Mosca ha risposto bombardando l'oblast strategico di Severodonetsk, uccidendo quattro civili e provocando la distruzione di otto edifici. E l'area di Sumi, cittadina del nord ucraino liberata, raggiunta da missili sparati dal territorio russo per tutta la mattina. Dentro i confini di Donetsk in 24 ore si contano almeno 10 morti, tra cui due bambini. È accaduto a Liman e Bakhmut. Intanto restano dubbi e scarse informazioni sull'evacuazione da Azovstal dei combattenti ucraini. Mosca sostiene di tenerli in custodia 1.730, tra cui 81 feriti. Kiev non conferma, così come un comandante del reggimento Azov, Oleg Superka, che spiega tra gli uomini usciti dalla CIA non ci sono solo quelli di Azov, ma anche regolari delle brigate 21esima e 36esima dell'esercito ucraino. I feriti, dice, non se la passano bene, ma sappiamo che i russi li stanno curando e chi è ancora dentro, con armi a disposizione, credo, aggiunge, continuerà a difendere il paese. A Mosca ci sarebbe poi maretta tra i vertici militari russi con epurazioni, tra i comandanti dei carristi e della flotta navale del Mar Nero, rei di aver gestito male. La prima fase dell'invasione è questo mentre la procura di Kiev fa sapere di aver aperto qualcosa come 9.000 inchieste contro 600 sospettati russi di crimini di guerra. E mentre prosegue il processo, al sergente Shishimaren, accusato dell'assassinio di un anziano ucraino di 60 anni, disarmato, non volevo sparare a nessuno, ha dichiarato in aula, sono stato costretto da un mio comilitone e comunque vi chiedo perdono. Ma come sappiamo una guerra non è fatta solamente di bombe, di missili, ma anche di parole, di propaganda, anche di false denunce come quelle di fantomatici depositi di armi. Su questo punto che andiamo ad Odessa, dove la nostra Paola Mascioli oggi si è messa anche ad indagare. Buongiorno Paola. Buongiorno, sì, sono ad Odessa. Sono nei film studios di Odessa, praticamente la Cina è città di questa città sul Mar Nero. Studi che sono stati realizzati nel 1919 erano tra i più importanti ai tempi dell'Unione Sovietica e i principali ai tempi da quando l'Ucraina è diventata uno stato indipendente. Perché siamo qui? Siamo qui perché ieri Maria Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri guidato da Lavrov a Mosca, ha accusato l'Ucraina di avere in diverse città, tra cui Odessa, delle fabbriche di armi chimiche, dei laboratori dove vengono create armi chimiche e soprattutto ha puntato il dito contro questa struttura, sostenendo che qui siano stati piazzati i pezzi della contraerea, cioè quelli che regolarmente ogni notte e ogni mattina intercettano e abbattono i missili che partono dal Mar Nero sulla città. La risposta del direttore Andrei Osipov è stata comica, è stata ironica perché ha detto questo e questo qui è l'unico elemento che risale ad una guerra ed è un camion dell'epoca sovietica che è stato in qualche modo aggiustato ed viene utilizzato per la produzione dei film. Quindi questa è la risposta degli studios di Odessa, questo è il camion, qui ci sono altri elementi, c'è una locomotiva, una macchina degli anni 40, tutti questi studios sono molto grandi, sorgono su un'area di 60 metri quadri, c'è all'interno anche un museo del cinema, qui negli anni sono stati prodotti oltre 600 film, addirittura qualche scena della corazzata Potionkin che vede la sua scena più importante sulla scalinata di Odessa che purtroppo Flimis non è neanche visibile da lontano, quindi per farvi capire come questo luogo sia importante per l'economia della città che essendo una città non solo portuale ma anche a vocazione turistica e legata allo spettacolo in questo momento vede anche questa sua anima completamente ferma, il teatro nazionale oltre ad essere un edificio bellissimo ospita il balletto, ospita l'opera, ospita la prosa, ospitava, usiamo il passato perché è tutto fermo, questi studios sono fermi, anche questa parte importante dell'economia del paese è ferma, la cosa più curiosa è capire con quali fonti la Zaccarova abbia potuto sostenere che questo è un luogo dove ci sono armi e pezzi di contraerea, visto che comunque abbiamo fatto una richiesta e il direttore è stato molto gentile, ci ha invitato, ci ha fatto fare un giro dei padiglioni, ci ha fatto girare delle immagini che vi stiamo mostrando e non ci sembra un luogo ad alto rischio altrimenti non ci avrebbero fatto neanche avvicinare, era questo il racconto che vi volevo fare oggi da Odessa facendovi vedere anche un aspetto finora inedito di questa città, non potendovi mostrare i bellissimi monumenti ai quali non ci si può neanche avvicinare, vi ho fatto vedere una parte della loro vecchia fabbrica dei sogni che al momento come tutto il resto è ferma. Ci sei riuscita, grazie, grazie allora Paola Mascioli, noi parliamo di sanzioni perché la Commissione Europea ieri ha presentato il piano Repower EU 300 miliardi per cercare di accelerare l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili di Mosca e accelerare anche la transizione verde. Il Premier Draghi, lo avete sentito nel suo discorso in Parlamento, ha detto che l'Italia riuscirà nel secondo semestre del 2024 ad affrancarsi dal gas russo, oggi c'è un dato che riguarda l'Unione Europea e che dice che siamo già passati dal 40% di fabbisogno al 26%. L'indipendenza dell'Europa dal gas russo richiede tempo ma il cammino già avviato sta dando i primi frutti. Ad aprile c'è stata una riduzione della percentuale di gas utilizzato dai Paesi dell'Unione, la dipendenza da Mosca è passata dal 40% di un anno fa al 26% e la commissaria europea all'energia Kadri Simpson a consegnare questi dati al Parlamento europeo. Non possiamo fare a meno da un giorno all'altro dei 155 miliardi di metri cubi importati dalla Russia, ha sottolineato nel suo intervento spiegando le soluzioni individuate nel piano Repower EU presentato ieri dalla Presidente Ursula von der Leyen. La strategia per emanciparsi dalla Russia entro il 2027 punta sul risparmio energetico, la diversificazione nell'approvvigionamento e un'accelerazione della transizione verde. Entro il 2030 il 45% dell'energia dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili, motivo per il quale si prevede l'obbligo di pannelli solari sui tetti degli edifici privati e pubblici e taglio dei tempi di autorizzazione. Sfide che per Bruxelles valgono circa 300 miliardi di euro, di cui 80 sono a fondo perduto e 225 miliardi saranno prestiti rimasti nelle casse del recovery che ben 21 dei 27 paesi non hanno richiesto. E l'indipendenza del gas russo è l'obiettivo ribadito anche dal Premier Draghi. In Senato oggi ha detto che il governo stima per l'Italia la fine del 2024 come data della nostra indipendenza. Intanto da Mosca arriva la notizia che circa la metà delle 54 società straniere che acquistano gas da Gazprom ha aperto conti bancari in rubli, come chiesto dal Presidente Putin che per aggirare le sanzioni della comunità internazionale ha imposto i pagamenti in rubli, prevedendo la possibilità per gli acquirenti di aprire un doppio conto. Anche Enia ha annunciato di averlo aperto. Ma da Bruxelles arriva nuovamente un netto no ai conti in rubli, non sono in linea con le sanzioni contro Mosca. È compito dei paesi membri attuare le sanzioni e vigilare sulla loro applicazione, ha spiegato stamani il portavoce della Commissione europea. Un no che potrebbe mettere in serie difficoltà gli operatori come Leni che domani dovrà far partire i bonifici in euro per i pagamenti relativi alle forniture del mese scorso. Oggi a Berlino due ore, già questa mattina, di confronto tra i Ministri della Salute e della G7. Il tema è il Covid, quello che è stato, come reagire in futuro eventualmente in modo più concreto e veloce ad una pandemia e quello che è il punto sulla campagna vaccinale. Vaccini e mascherine, i temi principali del G7 e della Salute riunito questa mattina a Berlino sono questi, anche se uno degli obiettivi finali del Vertice resta quello di firmare un patto tra i vari stati per reagire in maniera più rapida in caso di future pandemie. Prima però il Ministro Speranza si confronterà con i colleghi sulle misure adottate da adottare per fronteggiare l'attuale pandemia di Covid in una fase in cui calano gli indicatori, anche se, ripetono tutti, politici e scienziati, non è affatto finita. Dobbiamo continuare a sostenere i paesi più fragili, ha detto Speranza, parlando delle campagne vaccinali nei paesi in via di sviluppo. Dalla crisi si esce tutti insieme. Ma il tema delle immunizzazioni sarà al centro del G7 anche per un altro motivo, perché è vero che in Italia decrescono contagi, ricoveri e decessi, ma la discesa non è uniforme in tutte le fasce d'età. Da febbraio, secondo i dati settimanali analizzati dalla Fondazione Gimbe, si registra infatti un progressivo aumento del tasso di mortalità negli over 80 e, seppure in misura minore, nella fascia 60-79 anni. Il motivo, secondo Gimbe, è soprattutto uno, la diffidenza verso la quarta dose del vaccino, il secondo booster fatto da un solo immunocompresso su quattro e, più in generale, dall'11% di chi ne avrebbe diritto. Su 4 milioni e 400 mila persone hanno fatto la quarta iniezione, poco più di 500 mila. La diretta conseguenza è che, oltre al fatto che molte dosi di vaccino già nei frigoriferi delle regioni rischiano di scadere. Per i più fragili, che hanno fatto la terza dose da oltre 120 giorni, mancano adeguata protezione contro gli effetti più gravi del Covid. Aspettare l'autunno per avere un vaccino aggiornato è molto pericoloso per le persone vulnerabili, dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, che ricorda anche che, se è evidente il calo delle vittime, il numero giornaliero dei decessi resta ancora alto. Peraltro c'è un'intesa nell'Unione Europea per riconoscere, si legge il Covid, come malattia professionale, per quello che riguarda chiaramente i settori dell'assistenza sanitaria e domiciliare, dei servizi sociali e dunque tutti quei luoghi che sono a comprovato rischio di infezione. La cronaca italiana perché a largo delle coste baresi, a 50 miglia circa, si è consumata una tragedia perché un rimorchiatore italiano diretto in Albania è affondato per cause ancora da accertare. Ci sono invece accertati già 5 persone morte. È sprofondato all'improvviso con tutta la sua stazza, la sua portata, i due motori da 1250 kilowatt. Il rimorchiatore italiano Franco P è affondato ieri a largo di Bari a circa 52 miglia dalla costa verso la Croazia. Ignote, inspiegabili finora le cause della tragedia. La nave era partita dal porto di Ancona, diretta in Albania. Stava trainando il pontone AD3, una specie di chiatta, un galleggiante a fondo piatto usato di solito nei porti e negli arsenali. Verso le 9 di sera è scattato l'allarme e l'imbarcazione, non si sa come, è colata a picco. A bordo del Franco P c'erano 6 persone. Unico ad essersi salvato il comandante, 63 anni di Catania, recuperato su una zattera da una nave croata che si trovava sul posto. È ricoverato al policlinico di Bari in stato di shock. Forse quando si riprenderà potrà raccontare cosa è successo. Una moto vedetta croata poco fa ha recuperato in mare due cadaveri, altri tre sono stati avvistati. In salvo invece gli udici marinai che si trovavano sul pontone che si è sganciato dalla motonave e che al momento è alla deriva. In suo soccorso si sta dirigendo un altro rimorchiatore. Abilitato per la navigazione speciale internazionale, lunghezza quasi 30 metri, altezza di costruzione quasi 4, il Franco P della ditta Irma nel 2014 aveva fatto parte del corteo di navi che hanno trasportato dall'isola del Giglio a Genova il relitto della costa Concordia. Difficilissime per il mare grosso le operazioni di ricerca coordinate dalla Guardia Costiera di Bari, ricerche a cui in questi minuti partecipano mezzi militari, elicotteri, mercantili civili e anche i marittimi della Croazia. La procura di Bari indaga per naufragio e omicidio. Andiamo adesso a Venezia dove sono stati congelati beni per circa 150 milioni di euro, tra questi anche 5 aerei, alla Superjet International che è una joint venture tra la russa Sukhoi e la nostra Leonardo, una SPA che era finita nella lista nera dell'Unione Europea. I Sukhoi Superjet 100 aerei per l'aviazione civile sono fermi nell'hangar di Tessera a Venezia sotto sequestro dopo un decreto del Comitato di Sicurezza del Ministero dell'Economia. È l'ultimo risvolto delle sanzioni contro Mosca. La Superjet International è una joint venture tra Leonardo che ha il 10% delle quote e Sukhoi che è il 90%. Sukhoi è una holding che produce aerei sia militari e sia civili di proprietà della UAC, la federmeccanica russa. I suoi jet sono impegnati nella guerra in Ucraina, è stata inserita dall'Unione Europea nella blacklist. I beni della società riconducibili alla casa madre russa a Venezia sono stati congelati. 150 milioni di euro all'incirca, le quote di Leonardo invece non sono state toccate. I superjet sono aerei per le tratte regionali che vengono assemblati a Venezia. I conti erano già stati bloccati alla fine di aprile dalle banche italiane. I dipendenti della società, tutti italiani, non ricevono lo stipendio. Sono 145 più quelli dell'indotto. La settimana scorsa dopo un'assemblea i sindacati avevano inviato una lettera a Regione e Governo chiedendo l'intervento pubblico per sbloccare i conti correnti e riqualificare il personale. L'azienda che è sana non può essere commissariata con le sanzioni, superjet ha già perso contratti per 180 milioni di euro e ha maturato un debito di 20 milioni con lo Stato. Nella vicenda si è già interessato il ministro del lavoro Andrea Orlando che aveva incontrato una delegazione dei dipendenti di superjet. Per domani è stato indetto uno sciopero coinvolti anche i lavoratori della divisione velivoli ed elicotteri di Leonardo. A proposito del congelamento, del sequestro di beni appartenenti a oligarchi russi e quant'altro proprio oggi il portavoce del Cremlino Peskov ha detto la Russia difenderà i suoi beni congelati all'estero, si batterà contro i tentativi di rubarli. È indagata per omicidio stradale la donna di 38 anni di origine bulgara che secondo le prime ricostruzioni sarebbe ritenuta responsabile di quella tragedia avvenuta ieri pomeriggio nell'asilo di Pile, una frazione del comune dell'Aquila in cui ha perso la vita un bambino, altri cinque sono rimasti feriti. La donna sarà ascoltata breve dai magistrati. All'interno dell'auto in sosta che ha travolto i bambini c'era infatti suo figlio che ha 12 anni. Gli inquirenti per far luce su ciò che è accaduto confidano anche su quelli che saranno i risultati della perizia sull'auto sequestrata. Intanto sono stabili le condizioni delle due bimbe di 4 anni ricoverate presso la terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma e del piccolo della stessa età ricoverato invece presso l'ospedale Bambin Gesù sempre di Roma, la cui prognosi resta però riservata. Un ritratto, opera del pittore Tiziano, ritenuto perduto, è stato recuperato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino. Andiamo a vedere. Un gentiluomo con il berretto nero, lo sguardo enigmatico e la barba rossa, colore preferito dal maestro rinascimentale Tiziano al quale il dipinto è attribuito. Era stato esportato illecitamente in Svizzera, lo hanno rintracciato, recuperato i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino e oggi viene consegnato alla locale sovrintendenza ed entra nella proprietà dello Stato. Il dipinto era stato esportato illegalmente in Svizzera per sfuggire alla tutela dei beni culturali italiani, una sorte purtroppo comune a molte opere d'arte di cui sia notizia solo quando sono ormai all'estero e non potrebbero più essere reclamate dal nostro paese, a meno che non si possa dimostrare che quelle opere erano in Italia e sono sparite illegalmente. È quello che è successo al gentiluomo di Tiziano, di cui sia notizia nel 2014 quando il museo di Caslano, piccolo comune del canton Ticino, lo espone, prestato da un collezionista elvetico. Nel 2020 partono le indagini dopo che una coppia di collezionisti piemontesi dichiarano all'ufficio esportazione di Torino il rientro in Italia dalla Svizzera del quadro per una serie di esami diagnostici. I carabinieri trovano la tela in un laboratorio di restauro nell'Astigiano, pronto per essere sottoposto al test dei raggi X e la prendono in consegna. Riescono a collegare l'opera all'Italia, il dipinto sarebbe stato nel nostro paese fino al 2003. Due cittadini elvetici furono indagati per la detenzione di quest'opera, uno per ricettazione, l'altro per violazione del codice sulla tutela dei beni artistici. I reati erano ormai prescritti. Ora il ritratto verrà analizzato per stabilire se si tratta davvero di un'opera del maestro veneziano. Una perizia della fine degli anni 90 lo stimava tra i 5 e 6 miliardi di vecchie lire, oggi potrebbe valere 7 milioni di euro. E con questo servizio andiamo per una breve pausa in pubblicità, poi torniamo come sempre pagina sportiva e eventuali aggiornamenti. A tra poco. La pagina sportiva. Ieri sera si è assegnato il primo titolo continentale, l'Europa League vinta dai tedeschi dell'Eintracht di Francoforte. Ai rigori sul Glasgow di Rangers, gli scozzesi dopo l'1-1 con il quale si erano conclusi tempi regolamentari e supplementari, la finale di Siviglia si è appunto decisa dagli 11 metri. Gli scozzesi è risultato fatale, l'errore dal dischetto dell'ex juventino Aaron Ramsey che si è fatto parare il tiro. Come vedete per l'Eintracht di Francoforte si tratta della seconda vittoria in questa competizione, la precedente nel 1980, quando ancora si chiamava Coppa UEFA. Ma sono ore importanti per il destino del campionato italiano per verdetti che arriveranno probabilmente già da domani. Alla vigilia di due finali, come lui stesso le ha definite, col Torino in campionato e col Feyenoord in Conference League, José Mourinho giura fedeltà alla Roma. Potrei restare più dei due anni ancora previsti dal contratto, ha detto il tecnico portoghese che a Tirana si giocherà la sua ottava finale europea. Intanto però domani c'è la trasferta a Torino che può garantire l'accesso sicuro alla prossima Europa League, visto che le finali, come ha sottolineato lo Special One, si possono anche perdere. Quindi il rischio di rimanere fuori dall'Europa l'anno prossimo c'è e Mourinho deve calarsi nei panni del motivatore per far capire ai suoi giocatori che la gara contro il Toro è uno snodo fondamentale per il futuro. Mkhitaryan e Smalling rischiano di saltare la finale di Tirana, in dubbio anche Zaniolo e Carsdor. Ci sono due finali per giocare e ipoteticamente si possono perdere tutte le due. di finire fuori di competizione europea. È un rischio che esiste, io lo so, i giocatori lo sanno e ti dico che non è una situazione facile da gestire. I giallorossi e Granata apriranno l'ultima giornata di Serie A che vive ovviamente del rush finale verso lo Scudetto. Sensazioni positive per il Milan che a Sassuolo dovrà raccogliere almeno un punto per conquistare il titolo. Pioli si affida ovviamente a tutti i titolari a disposizione, soprattutto a Raphael Leao, autentico trascinatori di questo Milan che già da lunedì discuterà del suo futuro col club. L'invasione rosso-nera stima in 18.000 ai tifosi milanisti a Reggio Emilia dove al problema dei bagarini si aggiunge quello dei biglietti falsi già in circolazione. Poi eventuale festa in Piazza Duomo e Caroselli per le vie del centro. L'Inter si augura invece di festeggiare a San Siro dopo aver battuto la Sampdoria sperando nella simultanea vittoria del Sassuolo sui Cugini, unica combinazione per laurearsi campioni d'Italia per il secondo anno consecutivo. Inzaghi ci crede e la Lega Calcio ha comunque pronte due coppe da consegnare, non si sa mai. Roma, Fiorentina e Atalanta sono in corsa per un posto in Europa League mentre una tra Cagliari e Salernitana retrocederà in Serie B. I campani sono sopra di due punti e battendo l'Udinese in casa sarebbero sicuri della salvezza. Adesso facciamo il punto sul Giro d'Italia. Ieri è arrivata finalmente la prima vittoria italiana. Meglio tardi che mai Alberto Dainese ha riempito la casella zero vittorie italiane al Giro 2022 con la volata perfetta. Lui che nemmeno era convinto di disputarla la volata e quando si rivede dice ma davvero quello sono io. Ha vinto con un lungo colpo di reni che il marchio di fabbrica dei grandi velocisti. Era dal Giro 2017 successo di Nibali e Bormio nella sedicesima tappa che la prima vittoria italiana nella corsa rosa non arrivava così tardi. Alberto Dainese a 24 anni è nato da Abba Noterne. Alle spalle una vita da mediano, sacrifici, lunghe rincorse, un solo sussurro vincente, un titolo europeo Under 23. Per diventare un ciclista ha dovuto lasciare l'Italia e migrare in Olanda. Non è un caso isolato ma una costante degli ultimi anni. Un tempo l'Eden dei ciclisti erano la Toscana e la Lombardia. Ora se vuoi fare il ciclista sul serio allora devi lasciare il nostro paese come ha fatto Alberto Dainese appunto. La situazione del nostro ciclismo è drammatica. Dei professionisti italiani attivi uno soltanto dei primi 150 del ranking internazionale Filippo Zana è tesserato con un team tricolore. Rispetto a un passato anche recente quello che manca sono le formazioni italiane ridotte ad appena tre e tutte marginali. Ecco perché la vittoria di Dainese se da una parte accende la speranza vuoi vedere che abbiamo trovato il velocista del futuro dall'altra però è anche la conferma di ciò che è davvero diventato il ciclismo italiano. Per Dainese le occasioni per il bis non mancheranno in un giro entrato nella sua fase più avvincente. Oggi arrivo a Genova tappa non facile ci sarà battaglia. La conferma della maglia rosa lo spagnolo Juan Pedro Lopez dovrà sudarsene. Non mancherà l'emozione si passerà nel luogo dove 11 anni fa il ciclista belga Weyland perdeva la vita durante la terza tappa del giro 2011. Poi nel finale a 10 chilometri dal traguardo la corsa transiterà sul nuovo ponte San Giorgio costruito dopo il crollo del ponte Morandi che il 14 agosto 2018 spezzò la vita di 43 persone. Con un tempo non sorprendente almeno per come ci ha abituato di 10.04 Marcel Jacobs si è imposto nella finale del meeting di atletica di Savona per il campione olimpico che in batteria aveva fatto registrare sui 100 metri un 9.99 si è trattato del rientro in pista a 280 giorni esatti dall'impresa di Tokyo Jacobs che ha accusato inevitabilmente i postumi del virus che lo aveva colpito una decina di giorni fa. Anerobi sta lavorando per acquisire la migliore condizione atletica in vista soprattutto dei prossimi mondiali che si disputeranno in Oregon dal 15 al 24 di luglio. Allora un aggiornamento prima di chiudere perché c'è stato il via libera definitivo dell'aula della camera al decreto energia con 336 voti favorevoli 51 contrari 2 astenuti dunque il provvedimento che contiene tutte le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina è convertito in legge. Vi ricordo alle 17 l'appuntamento con lo speciale di Enrico Mentana sul conflitto appunto in Ucraina come tutti i giorni e prima di salutarvi vi ricordo anche a proposito del conflitto quella che è la nostra sottoscrizione un aiuto subito per l'Ucraina del Tg la 7 del Corriere della Sera ormai conoscete i riferimenti bancari che sono a schermo li potrete anche trovare sui nostri siti di informazione. Grazie per essere stati con noi la linea va a Tiziana Panella tag adà ai suoi ospiti buon pomeriggio sulla 7.